Benvenuti in questo nuovo video, sono Stefano di Ottica Telescopio, in questo canale parliamo di tecnologia e di astronomia il mondo del cielo stellato e quello tecnologico che vanno un po' insieme anche perché la tecnologia con l'astronomia stanno apportando tante migliorie. Uno dei video che volevo fare era come poter utilizzare ChatGPT, questa famosa intelligenza artificiale di cui tutti ne parlano per l'astronomia. Ovviamente cosa è successo? Che da ieri se uno accede al portale di ChatGPT per poterlo utilizzare cosa avviene? Avviene che vi trovate una scritta che dice che non è possibile accedere al servizio in Italia di ChatGPT perché il garante italiano, il garante della privacy ha richiesto che sia bloccato perché al momento la piattaforma di ChatGPT non è conforme alle leggi sulla privacy GDPR. Ok, per ora si è bloccato in Italia, ma questo nulla vieta che potrebbe è possibile espandersi questo blocco anche in altre nazioni, in altri luoghi. Perché lo dico? Perché qualcuno mi scrive nei commenti, quando ieri ho pubblicato la notizia, che è possibile accedervi attraverso la VPN quindi sì, però questo che cosa comporta? Che se hanno riscontrato un problema di privacy e io comunque continuo ad accedervi attraverso la VPN, poi alla fine se ho un problema non mi posso lamentare oppure questo significa che poi fare questo può comportare anche gli altri membri dello Stato europeo a intraprendere delle azioni nei confronti di ChatGPT e quindi far sì che questo si peggiori anche se l'OpenEye che è il team di sviluppo di ChatGPT ha comunque dichiarato che troveranno una soluzione troveranno degli accordi, vedranno come mettersi in regola con il garante della privacy in modo tale da poter riabilitare il servizio di ChatGPT, poi hanno detto che se ci sono tutti gli abbonamenti plus verranno rimborsati, non ci saranno dei rinnovi eccetera eccetera fino a che non hanno risolto questo problema. C'è molta attenzione per questa intelligenza artificiale, per tutte queste intelligenze che si stanno evolvendo, ma il discorso principale che preme molti e soprattutto dice ma può sostituire il mio lavoro, può fare qualcosa che poi può danneggiare il mio lavoro eccetera eccetera il problema principale non è il software in sé per sé ma è l'utilizzo che se ne fa questo è come qualcuno che vende i coltelli dice allora io vendi i coltelli è legale o i coltelli diciamo da cucina, no però se l'utilizzo è fatto in modo sbagliato può diventare un qualcosa di pericoloso quindi quello che forse dovrebbero un po' attivarsi questi di in open eye e credo che questo è quello che sia il motivo della sospensione del blocco è quello di attivare delle forme di sicurezza in più al fine di garantire una migliore sicurezza per gli utenti che li utilizzano ma anche un modo di poter evitare che venga utilizzato in modo negativo quindi diciamo che si sta su un filo del rasoio è un po' il confine tra il legale e l'illegale il posso e non posso quindi è un po' macchinosa la cosa vedremo un po' l'evolversi di questa vicenda nei prossimi giorni perché comunque ci sono stati dati 20 giorni in cui si devono mettere a posto diciamo si devono regolarizzare con quanto richiesto dal garante della privacy e vedremo cosa succederà e quant'altro quindi ecco questo è come il discorso della vpn la vpn è un sistema di sicurezza per non prendere per stare attenti dati crittofagati per non avere problemi di virus eccetera eccetera tutto quello che vogliamo dire sulla vpn e poi alla fine la vpn è utilizzata anche un modo per eludere dei sistemi in modo tale che io posso utilizzare dei servizi al momento bloccati quindi nulla è sbagliato ma se è utilizzato in modo non corretto può diventarlo vediamo come andrà a finire e ci aggiorniamo nel prossimo video se avete dei commenti scriveteli così in modo tale ne parliamo ci confrontiamo su questo argomento che a favore che a sfavore vediamo un pochettino cosa ne pensate di questa situazione e io vi aspetto al prossimo video ciao a tutti e grazie per avermi seguito grazie per avermi seguito